Signore e signori, benvenuti, bentrovati a questo primo appuntamento dedicato alla formazione nel trading in cui verranno illustrati quelle che sono un po' le basi del trading online. Vi ringrazio per essere qui perché se siete arrivati a questo punto e avete deciso di iniziare questo percorso insieme a noi significa che volete veramente dare una svolta alla vostra situazione finanziaria. Come sapete Trade Detector è un servizio, forse in questo momento in Italia il migliore, se non proprio il migliore in tutta Europa, dedicato ai segnali operativi di trading. Il nostro obiettivo è quello di rendere tutti i nostri abbonati capaci di operare sui mercati finanziari di tutto il mondo in maniera autonoma e indipendente. Quindi la nostra mission è quella di costruire fiducia in se stessi attraverso i segnali operativi che inviamo ai nostri abbonati e la possibilità di imparare come va fatto il trading online, quali sono le migliori tecniche, le migliori strategie per essere indipendenti ed autonomi a partire da poche settimane dopo l'iscrizione alla nostra Academy. Quindi se non l'avete fatto vi consiglio, mentre vi state formando con la nostra Academy, di visitare il sito trade detector.com per avere una visione più completa di quelli che sono i nostri segnali operativi ed iniziare eventualmente a seguire i nostri segnali che vi verranno inviati direttamente sul vostro cellulare in modo tale da poter iniziare a guadagnare anche durante il vostro periodo di formazione nell'Academy di Trade Detector. Veniamo a noi in questa prima lezione introduttiva dedicata ai concetti di base del trading, faremo una piccola panoramica, una breve, una veloce panoramica su quelle che sono le informazioni principali per chi magari non ha mai iniziato, non ha mai fatto trading in vita sua, ma vorrebbe entrare in questo mondo fantastico che non è poi così complicato come si dice. È importante soltanto conoscere delle informazioni di base per poter trarre vantaggio dai mercati finanziari. Sapete che è impossibile, questo lo voglio dire fino all'inizio, è impossibile prevedere il futuro dei mercati finanziari, quindi prevedere l'andamento di un prezzo all'interno di un grafico che vedrete poi nel corso dedicato all'analisi tecnica, ma è possibile quantomeno ipotizzare, quindi avere maggiori percentuali di guadagno dalla nostra parte per eventualmente appunto ipotizzare l'andamento futuro dei prezzi. Quindi la differenza, questa è importante, lo dico sempre, tra un trader di successo e un trader perdente è che mentre il trader perdente cerca di prevedere il futuro, il trader vincente sa che il futuro non può essere previsto soprattutto nei mercati finanziari e quindi imposta le sue strategie di trading tenendo sempre presente questa regola fondamentale. Quindi è importante preservare il capitale ancora prima di pensare di poter guadagnare. Chi pensa che il trading sia un'attività che possa far guadagnare fin dal primo giorno grandi cifre e che in qualche settimana vi potrebbe far lasciare il vostro vecchio lavoro che magari tanto odiate sta sbagliando di grosso. Il trading va fatto con coscienza, il trading va fatto con collizione di causa, bisogna saper gestire le proprie perdite, saper gestire i propri guadagni. È importante comunque avere delle regole di money management molto precise e molto accurate. Per chi di voi continuerà la formazione nella nostra Academy sarà possibile, vi sarà possibile accedere ad una vasta gamma di corsi, videocorsi, consulenze e seminari dal vivo per imparare quali sono le migliori tecniche di trading in qualsiasi settore del mercato finanziario. Partendo quindi dal trading in Forex, forse probabilmente il più conosciuto, il trading sulle valute, il trading con le azioni, il trading con le opzioni binarie, anche lo spread trading e strategie ancora più sofisticate e professionali che piano piano andrete ad implementare nella vostra formazione. Veniamo a noi, io mi presento, sono Gianluca Sidoti, sono un trader e sono l'amministratore di Trade Detector. La prima slide che vi voglio mostrare, che vi devo mostrare, è quella relativa alle note legali, perché sapete che abbiamo la necessità di informarvi che il trading è un'attività a rischio che comporta anche la perdita del vostro capitale, quindi bisogna essere coscienti fin dall'inizio che prima di lavorare, fare trading con denaro reale, comunque è importante far pratica con denaro virtuale, con fanta dollari per intenderci e prendere un po' la mano con quella che sarà la vostra, spero, attività futura. Quindi leggiamo insieme questa slide. Questo corso, come tutti i prodotti e servizi a marchio Trade Detector, è esclusivamente scopo informativo e didattico. Pertanto non deve essere inteso in alcun modo come consiglio operativo di investimento né come sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio. I risultati operativi eventualmente evidenziati non costituiscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance future. L'attività di trading comporta notevoli rischi economici e chiunque la svolga lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità. Pertanto gli autori e tutti i partner di Trade Detector non si assumono alcuna responsabilità, circa eventuali danni diretti o indiretti, relativamente a decisioni in investimento prese dal lettore. Il lettore pertanto è sonero a questo corso e tutti gli altri prodotti o servizi marcati Trade Detector, oltre ai suoi autori, da qualsiasi responsabilità comunque connessa e derivante dai prodotti e o dai servizi di Trade Detector. Bene, il concetto di trading online. Parliamo da questa slide molto importante perché chi è soprattutto alle prime armi magari non ha nemmeno mai sentito parlare di trading. Che cosa significa trading online? L'acronimo di TOL sostanzialmente. Il trading in inglese è uno scambio, il commercio. Gli attori principali sono ovviamente i compratori e i venditori, cioè noi trader, che si fronteggiano sul mercato per acquistare o vendere, l'ho scoperto nel caso di compratori che acquistano, nel caso di venditori vendono, un asset, ovvero un'azione piuttosto che una valuta, piuttosto che una materia prima, ad un prezzo prestabilito. Vedrete dopo come si formerà il prezzo all'interno del mercato. Dovete sapere che il prezzo che noi vediamo nelle nostre piattaforme di trading altro non è che il prezzo che viene evidenziato nei nostri telegiornali. Ad esempio, quando si parla della salita del valore dell'oro, magari l'oro arriva a 2000 dollari l'oncia, beh, dovete sapere che noi facciamo proprio trading su quel valore lì. Quindi nella nostra piattaforma vedremo il nostro oro che vale magari il giorno X 2000 dollari l'oncia. Quindi dobbiamo, attraverso delle strategie che andremo ad imparare poi a seconda del corso che vorrete frequentare, vedremo come sarà possibile magari ipotizzare un andamento rialzista, piuttosto che un andamento ribassista, nel nostro caso, del prezzo dell'oro. I mercati disponibili alla contrattazione sono il mercato azionario, le azioni delle società, le cosiddette SPA, le società per azioni quotate in borsa, il mercato delle valute, comunemente chiamato Forex, il mercato delle materie prime, le commodity e il mercato obbligazionario. Poi ovviamente esistono tanti altri sottomercati derivanti appunto dai cosiddetti derivati. derivati non sono altro che degli strumenti finanziari che sono stati creati da questi principali, quindi azionario, Forex, materie prime e obbligazioni. Il concetto di strumento finanziario. Gli strumenti finanziari disponibili alla contrattazione sono le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale e di rischio, le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli negoziabili sul mercato dei capitali, le quote di fondi comuni di investimento, le cosiddette SICAV, per chi di voi magari ha una gestione patrimoniale fatta da un promotore finanziario, molto spesso si sente parlare di fondi comuni di investimento, le SICAV, che garantiscono un interesse attivo molto basso in genere, però viene molto spesso venuto come sicuro. Poi vedremo negli altri corsi specifici quanto in realtà questo rendimento sicuro sicuro non è. Le valute, i titoli sul mercato valutario, abbiamo letto il Forex. I contratti futures, swap, opzioni, forward, strumenti finanziari derivati. Ovviamente ci sono anche i cover and warrant, una serie di strumenti che un po' più tecnico-professionali, come per esempio le opzioni. Anche le stesse opzioni binarie è uno strumento derivato. Alcuni di loro sono di più facile comprensione, come proprio le opzioni binarie, mentre alcuni sono un po' più complessi e necessitano di uno studio più approfondito, come il caso dei contratti futures. Altri strumenti finanziari che io ritengo essere molto importanti sono i cosiddetti CFD, Contract for Different, o gli ETF e gli altri strumenti derivati. A me piace molto fare trading con i CFD, perché i CFD ci permettono, in Contract for Different, di far trading sugli stessi titoli azionari, o le obbligazioni, o fondi comuni, valute, senza dover avere requisiti di margine troppo elevati. Perché sapete che magari per acquistare un'azione di Apple che in questo momento vale oltre 100 dollari, bisogna appunto improntare 100 dollari. Con i CFD, Contract for Different, questo particolare strumento ci permette di poter investire in Apple, nel nostro caso, e avere margini molto più bassi. Quindi in realtà quello su cui noi stiamo investendo non è il titolo dell'Apple, qua è proprio un contratto per differenza, si chiama così. Dunque, il concetto di comprare o vendere nel trading è basilare. Il trading in borsa comporta tre possibili azioni, comprare, vendere o essere flat. Essere flat significa fuori dal mercato. Compriamo ad un prezzo basso per rivendere ad un prezzo più alto, è ovvio, e in questo modo ci garantiamo un profitto. Allo stesso modo vendiamo ad un prezzo alto per riacquistare ad un prezzo più basso. Quindi la differenza è il nostro quadagno o la nostra perdita. Quindi se acquistiamo a 10 e rivendiamo a 15, abbiamo avuto un guadagno di più 5, siamo in profitto di più 5. Se vendiamo a 10 e riacquistiamo a 5, abbiamo allo stesso modo avuto un guadagno, un profitto di 5, in questo caso euro, dollari, punti, a seconda dell'unità di misura. Guardate bene che se acquistiamo a 10 e rivendiamo a 8, abbiamo perso 2. Ok? È molto ovvio. Quindi acquistare, in inglese buy, in gergo di trading, essere long. Vendere, in inglese sell, in gergo di trading, essere short. Il concetto di prezzo, come si forma il prezzo? Il prezzo è indubbiamente l'elemento più importante nel trading. Il prezzo è il valore economico di un bene o di un servizio, che varia in base a modificazioni della domanda e dell'offerta. Cioè, la domanda è rappresentata dal gruppo dei compratori, quindi chi acquista, più ci sono acquirenti, più ci sono compratori, e ovviamente maggiore sarà la domanda, e di conseguenza il prezzo aumenterà il suo valore. Più ci saranno venditori, più il valore dell'offerta crescerà, e di conseguenza il prezzo diminuirà. È ovvio che se tutti quanti pensiamo che il valore dell'oro possa crescere nel breve periodo, nella fattispecie, andremo tutti a comprare l'oro, e quindi l'oro dà un valore di 2000 dollari l'oncio, magari nel giro di pochi giorni, crescerà a 2010. Quindi la persona che, il furbo, no il furbo, l'esperto trader che ha acquistato l'oro a 1800, perché probabilmente si aspettava, secondo la sua strategia di trading, che tutti quanti, i piccoli, noi piccoli trader, avremmo incominciato ad acquistare, avremmo incominciato ad acquistare, a 2000 dollari l'oncio, per far arrivare il prezzo a 2010, beh, quella persona ha guadagnato 300, 300 punti sull'oro. Quindi ha avuto un'ottima strategia di trading. Quindi nella fattispecie, come si forma il prezzo? Il prezzo non è altro che il rapporto che c'è fra la domanda e l'offerta. È una pura e semplice equazione matematica, divisione matematica. Vediamo un attimo quelli che sono gli attori principali nel mondo del trading online. Partiamo dai più importanti, cioè le banche. Le banche possono essere ovviamente le banche centrali, le banche statali e le banche commerciali. Vediamole la differenza. Per le banche centrali ognuno opera per il proprio paese, a seconda dei bisogni, fatta esclusione per la banca centrale europea, che è un po' l'unione delle banche centrali delle nazioni dell'eurozona. In America abbiamo la Fed, la cosiddetta Fed, la Federal Reserve. In Germania abbiamo la Bundesbank. In Italia abbiamo la Banca d'Italia. Poi ovviamente tutte queste banche europee, come la banca francese, spagnola, italiana, tedesca, tutte quante si uniscono e appunto creano la banca centrale europea. In questo momento il governatore è Mario Draghi, l'italiano Mario Draghi, e diciamo che la banca centrale europea ha molto più potere decisionale rispetto alle banche centrali statali, visto che l'euro è ormai la moneta comune in tutta Europa. In Inghilterra c'è la Bank of England, il cui governatore gestisce la politica monetaria per quanto riguarda la sterlina, sappiamo che in Inghilterra e nella Gran Bretagna c'è la sterlina, c'è la banca popolare cinese, insomma tutti il mondo, tutti gli stati del mondo hanno le proprie banche centrali. Le banche centrali hanno un ruolo fondamentale, lo abbiamo detto, nel mercato mondiale, poiché determinano i tassi di interesse nazionali, i livelli di inflazione e altro ancora. Per chi di voi farà anche la formazione sull'analisi fondamentale, vedrete che cosa significherà poi il termine tasso di interesse, il livello di inflazione e tanti il PIL, le vendite al dettaglio, vedrete un po' una serie di argomenti macroeconomici, di politica monetaria importanti da conoscere. L'impatto che questo ha sulla domanda e sull'offerta di una valuta o anche di un indice o di un'azione è ovviamente enorme. Le banche centrali sono in grado un po' di manipolare, sono le cosiddette mani forti del mercato. Quello che noi possiamo fare come noi piccoli trader è proprio quello di seguire, allinearci un po' a quelle che sono state le decisioni della banca centrale. Per questo è importante conoscere quantomeno le basi di politica economica per poi permetterci di far trading, di attuare delle strategie di trading in base a quelle che sono le decisioni della banca centrale europea, perché non saremmo mai proprio noi a scegliere quali sono le strategie da usare per controllare un po' il mercato. I livelli di inflazione vengono ottenuti, vengono manipolati dalle banche centrali, ormai soprattutto in questo periodo lo stiamo vedendo, quindi noi non possiamo far altro che allinearci e seguire quelle che sono le direttive delle banche centrali. Un altro grande e importante attore sono le banche commerciali. Queste banche hanno il... queste banche, scusate, danno il tono del mercato finanziario. La montata dei capitali che vengono scambiati all'interno del sistema bancario, chiamato Interbank, è enorme. Parliamo di miliardi di dollari al giorno. E sono proprio le banche commerciali a stabilire i tassi di cambio per l'offerta e la domanda nel mercato, soprattutto nel settore dei mutui. Sapete come... quanto sia importante per un'impresa accedere al credito? Quindi le banche centrali un po' sostanzialmente muovono il mercato in questo campo, perché un'impresa senza un'azienda importante che sia, senza capitali, non fa lavorare. Un paese in cui non ci sono lavoratori è un paese la cui crescita economica rallenta fortemente. Ci sono le grandi società, le grandi società di capitali, che fanno investimenti finanziari speculativi e scambiano valute e azioni secondo i loro bisogni di copertura. Pensate che i grandi coltivatori americani, ad esempio, quelli magari che hanno sterminate distese di grano, ad esempio, molto spesso hanno un ufficio che si occupa di fare proprio trading speculativo, perché può succedere, pensate, per quanto riguarda gli allevatori, i coltivatori, magari ad una, ad un cambiamento climatico importante, come un uragano, in America, che magari distrugge il proprio accorto. Quindi, queste grandi aziende agricole devono essere comunque coperte. In Italia abbiamo l'esempio lampante della Barilla. La Barilla non solo vende la pasta, vende i biscotti, la Barilla ha anche un ufficio che si occupa di trading speculativo per potersi coprire da un'eventuale annata magari negativa. Se un anno le vendite della pasta scendono del 5%, comunque, la Barilla ha un ufficio di trading che si occupa di coprire quei costi che vengono a mancare, perché la Barilla è una grande azienda, deve avere, ha dei costi di gestione e in qualche modo deve pareggiare i conti. Quindi, se un anno particolari piogge hanno, diciamo, fatto diminuire il raccorto e quindi la vendita, la Barilla sa che può convivere, insomma, con questo problema, visto che c'è un ufficio dedicato al trading che magari quell'anno gli ha fatto fare un più 10% sul capitale investito. Quindi, è importante anche per le grandi aziende, le grandi società commerciali, avere, fare trading di tipo speculativo o di copertura. Facciamo un esempio con la Apple. Se iniziasse una partnership con un nuovo fornitore elettronico in Germania, quindi in zona euro, la Apple dovrebbe prendere in considerazione di conservare più euro nel suo inventario. Ora, immaginiamo che ci siano altre corporation e grandi aziende che stringono una collaborazione con dei fornitori tedeschi o europei in generale, la domanda di euro salirà rafforzando così la valuta. Vedete quanto le grandi aziende come la Apple che in questo momento la Apple, Google sono le aziende più capitalizzate al mondo, significa che nei loro conti correnti hanno miliardi, centinaia di miliardi di dollari di capitale disponibile. È ovvio che se la Apple stringe un accordo con un fornitore europeo quindi che va pagato con gli euro deve scambiare i propri miliardi da dollari e li deve trasformare in euro e quindi deve fare un'operazione in forex e non è che una mattina si sveglia la Apple e va in banca e mi dice e dice al banchiere scusa John mi cambi cento miliardi di dollari me ne cambi in euro. Sappiamo che le banche hanno delle commissioni altissime quindi incaricherà il proprio ufficio appunto di investimenti finanziari per fare una mossa di trading di tipo speculativo in modo che non solo possa beneficiare di commissioni molto più basse e magari arrivare a un punto in cui gli conviene fare il cambio euro-dollaro in base alla situazione macroeconomica di politica economica dei due paesi può gestire la propria operatività di trading ma gli permette anche di appunto guadagnare scusatevi dal trading in valute società come la Apple Samsung Ford Toyota e in Italia anche la Fiat hanno commesse miliardari in grado di influenzare il mercato mondiale un altro attore principale sono gli hedge found questi fanno trading per poter mantenere gli investimenti dei loro clienti proficui tranne tramite un uso esperto delle leve quindi sostanzialmente gli hedge round parliamo di fondi di investimento altro che non sono di fondi di investimento i cui clienti sono società con grandi disponibilità di capitale pensiamo ad esempio al nostro promotore finanziario in banca quello che lo sportello ci dice signor Sidoti vuole investire in questo fondo comune che le dà il 2% netto al 2% magari lordo all'anno io piccolo risparmiatore dico sì sì va bene dai Mario facciamolo perché no ok firmiamo il contratto stessa cosa gli hedge found soltanto che lo fanno con clienti con miliardi di dollari nel proprio portafoglio quindi grandi società ci siamo poi noi tra gli investitori privati i trader privati e i broker si tratta di investitori privati come noi che fanno trading online per crearne dei profitti e guadagnare denaro questi trader tragano vantaggio dal fatto che si può far trading in qualsiasi momento ormai anche dopo l'orario di lavoro e ovunque nel mondo per noi trader basta un computer e una commissione anche se ormai si può far trading direttamente dal proprio telefono cellulare quindi nemmeno serve più il computer ovunque siamo io sono stato il mese scorso per motivi di lavoro in Florida lì ovviamente la connessione vabbè americana l'ha spedita ma io nel mio appartamento che avevo affittato sono stato lì un mese non avevo il wifi sapete in Florida soprattutto l'estate ci sono gli uragani quindi va via molto spesso la corrente insomma avevo bisogno di una connessione solida mi sono preso il mio telefono ho fatto l'hotspot sul computer per poter comunque guardare avere sempre un occhio sui grafici e io ho tranquillamente fatto trading dalla Florida anche in orari in cui magari in Italia era notte insomma lì era appena sera ormai la globalizzazione ci ha permesso anche questo possiamo far trading ovunque nel mondo possiamo gestire le nostre posizioni in qualsiasi parte del mondo e questo ha fatto sì che il trading sia una delle attività preferite da coloro i quali vogliono avere la libertà di decidere della propria vita un discorso molto importante che io sento dire troppo spesso soprattutto dai miei amici che non fanno trading io sono cresciuto in una piccola città dove il trading online è un po' una sorta di magia i finanzieri sono persone cattive gli speculatori sono persone cattive che giocano in borsa invece che investono in borsa ed è una cosa che a me fa incavolare tantissimo perché io non ho mai giocato in borsa ed è proprio questa la differenza tra un trader di successo non che io sia un trader di successo per carità ma un trader di successo investe in borsa un trader di successo ha le sue strategie un trader perdente gioca in borsa quindi tratta la borsa come fosse una scommessa noi nella nostra academy abbiamo pensate un corso di trading sportivo voi mi direte ma che cavolo c'entra il trading sportivo io vi dico che attraverso la matematica e la statistica calcolando le percentuali di probabilità con dei sistemi in excel con una calcolatrice alla mano è possibile addirittura aumentare le chance di vincita con creando una vera e propria strategia di trading con le scommesse cioè è matematica e non serve nemmeno una conoscenza incredibile io sono una pippa in matematica ho fatto il liceo classico ho fatto poi economia ho preso anche un master in analisi tecnica nei mercati finanziari ma questo ha fatto sì che io ogni esame che avevo di matematica ero rigorosamente o bocciato o rimandato o gentilmente invitato a ripetere l'esame ho ripetuto l'esame di matematica generale all'università penso almeno tre volte se non vado errato ormai perché non riuscivo io non è non sono mai stato un grande matematico quello che però ho capito della matematica è che posso costruirmi delle posso delle strategie posso lavorare fianco a fianco con la matematica e utilizzare la matematica per semplificarmi la vita tante cose che mi hanno insegnato a liceo e pensate ho fatto il classico pensate se facevo magari lo scientifico o all'università non mi sono mai state utile nella vita però era non da fare era obbligatorio no? è obbligatorio per tutti gli studenti seguire le lezioni anche di matematica e quindi ci prendevano i miei pali in testa poi all'università ho capito il giochetto ho incominciato piano piano a capire anche la matematica un po' come era il funzionamento di questa di questa scienza strana che non mi era mai riuscita ad entrare in testa e ho capito che con la matematica si può guadagnare voi vedrete che nei nostri corsi ci sarà sì la matematica ma verrà utilizzata soltanto per creare delle strategie proprio per farvi capire a livello logico come funziona ad esempio nel capitolo relativo agli indicatori e gli oscillatori nel modulo dell'analisi tecnica nel corso dell'analisi tecnica dovete sapere che alcune formule matematiche sono presenti nel trading perché parliamo quando visualizziamo il prezzo in un grafico dovete sapere che quel grafico si è formato attraverso un algoritmo matematico ma a noi non ce ne frega niente di conoscere quell'algoritmo matematico noi dobbiamo semplicemente sapere qual è la formula che ci permette di avere una strategia vincente piuttosto che una strategia perdente cioè l'importante è che alla fine del nostro trading noi guadagniamo è questo il discorso e dobbiamo fare in modo di costruire una strategia che ci permetta di guadagnare questa è la differenza tra giocare in borsa ed investire in borsa la terminologia giocare in borsa infatti è un gergo con un'accezione speculativa che rappresenta l'insieme di quelle azioni e procedimenti che permettono ad un individuo di operare sui mercati finanziari acquistando e o vendendo diversi tipi di strumenti finanziari valute opzioni future etf cfd eccetera ciò vuol dire che la parola giocare in realtà è una forzatura entrata nel linguaggio comune per definire un'attività quella del trading particolarmente rischiosa e dai risultati talmente imprevedibili da associarla un po' al gioco come quando uno va al casino perché il casino vince perché la roulette del casino scusate il casino alla roulette vince sempre perché oltre ai numeri pari e dispari c'è un numero zero cosiddetto il numero verde che fa sì che il casino sia sempre avvantaggiato da rispetto al giocatore d'azzardo ed è il motivo per cui ci potrà essere sempre un giocatore che magari alla prima botta gli arriva il colpo di fortuna e vince l'intero jackpot però sul lungo periodo il casino vincerà sempre noi con il nostro con le nostre strategie di trading dobbiamo riuscire a diventare dobbiamo riuscire ad essere il casino quindi dobbiamo fare in modo dobbiamo essere il croupier dobbiamo fare in modo che le nostre strategie ci portino del guadagno la maggior parte delle volte ci saranno delle perdite perché anche il casino anche il croupier ogni tanto perde però a lungo andare le vincite saranno sempre superiori alle perdite le nostre statistiche che ci dicono pensate che l'87% di chi fa trading perde il 6% sostanzialmente preserva il capitale solo il 7% guadagna immaginatevi su 100 persone che cosa significa che soltanto 7 persone su 100 continuano a far trading perché sono quelle che hanno creato una propria strategia hanno copiato una propria strategia perché no noi in trade detector vi diamo la possibilità di copiare le nostre strategie però solo 7 persone su 100 continuano a far trading gli altri vanno via abbandonano spesso in perdita 87 di loro vanno se ne vanno via chiudono i loro conti di trading in perdita e si incavolano e se la prendono con il mercato il mercato è una è una lotteria non esiste la possibilità di guadagnare il trading chi dice che guadagna dice perché vuole truffare le persone questi sono i falsi miti del trading io a queste persone non posso far altro che augurare tutto il bene possibile magari continueranno a fare il loro lavoro per il quale hanno cercato di 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 far trading per abbandonare quel quel posto di lavoro non ci sono riusciti tanti cari saluti dovete sapere che se volete far trading come dei professionisti e come dei professionisti intendo come dei trader che guadagnano non per forza come dei conoscitori degli studiosi dell'analisi tecnica o dell'analisi fondamentale è semplicemente necessario che voi vi applicate e seguite le istruzioni dei trader che prima di voi hanno fatto questo percorso e vedrete che i risultati non tarderanno ad arrivare ciò che differenzia chi gioca in borsa da chi investe in borsa è avere una strategia l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale ci aiutano ad aumentare notevolmente le nostre possibilità di guadagno permettendoci di creare strategie di trading a seconda della nostra propensione al rischio e alla perdita ora vi starete chiedendo che cos'è l'analisi tecnica e che cos'è l'analisi fondamentale sono due tipologie di approcci ai mercati finanziari uno puramente grafico nel caso dell'analisi tecnica e consiste sostanzialmente nella apertura di un grafico all'interno del quale si possono riconoscere particolari figure proprio letteralmente delle figure che in passato hanno dato un determinato risultato a seguito del quale in passato c'è stato un cambiamento una continuazione del prezzo e quindi attraverso lo studio dei movimenti del prezzo nel passato possiamo ipotizzare un quanto meno non certo ma probabile andamento futuro dei prezzi l'analisi tecnica funziona perché tutti i trader del mondo guardano i grafici vedono riconoscono queste figure in passato le riportano al presente se le trovano nel presente dicono ah ok probabilmente visto che nel passato il prezzo dopo questa figura ha fatto è cresciuto magari è probabile che visto che adesso si sta riformando questa figura il prezzo potrà crescere dopo questa figura questo è il motivo per cui l'analisi tecnica funziona perché è una pseudoscienza è vero non è una scienza riconosciuta però tutti i trader la guardano guardano ci sono delle regole fondamentali delle regole di base importanti da conoscere e di conseguenza tutti i trader si muovono nella stessa direzione ed è il motivo per cui l'analisi tecnica funziona non si tratta nient'altro che di seguire l'andamento dei trader di successo e cavalcarne un po' il successo l'analisi fondamentale è quella invece che studia la politica economica quindi tutti i fattori che muovono nel mercato come i tassi di interesse il valore del PIL i non-for-pay-roll in America il valore delle vendite al dettaglio la produzione industriale la crescita demografica insomma tutte quelle informazioni che riguardano l'analisi macroeconomica di un paese ci permettono di anche qui non prevedere ma ipotizzare un andamento futuro dei prezzi il trading va identificato come una vera e propria attività imprenditoriale le cui perdite nel trading sono dei costi aziendali quindi dovete sapere che all'inizio soprattutto del vostro trading voi perderete e vi assicuro che perderete anche abbastanza non dico tanto ma abbastanza sicuramente avrete più perdite che guadagni questo è fisiologico quindi mettetevi in conto che il vostro quello che magari nella vostra azienda è il marketing che quindi si tratta di spendere soldi di buttare soldi anche se vogliamo se non è fatto come Dio comanda il marketing significa buttare soldi piuttosto che l'affitto del vostro ufficio della vostra azienda del magazzino dell'azienda questi sono tutti costi assimilabili ai costi aziendali nel trading abbiamo le perdite visto che non abbiamo costi di personale non abbiamo costi di marketing non abbiamo magari costi di affitto perché facciamo trading dalla cameretta del nostro appartamento con i genitori abbiamo però dei costi aziendali che sono le perdite fisiologiche che avremo sempre all'inizio soprattutto quindi bisogna avere uno stomaco di ferro per resistere ma anche dopo il momento in cui avrete avrete incominciato ad utilizzare una strategia proficua vedrete che profittevole scusate vedete che anche in quel caso magari 4 volte su 10 perderete dei soldi o perché no anche conosco trader che perdono soldi 6 volte su 10 però quelle 4 volte in cui guadagnano su 10 guadagnano molti più soldi di quanti ne perdano nel totale di quelle 6 operazioni capite quanto è importante gestire la propria operatività non importa fare 9 operazioni su 10 vincenti se poi quell'unica perdente vi rimangiate tutto il guadagno delle 9 che avete fatto vincenti voi potete fare anche 2 sole operazioni vincenti su 10 e le altre 8 sbagliate però se quelle 2 operazioni sono il totale che guadagnate è maggiore rispetto al totale che perdete nelle altre 8 operazioni allora la vostra strategia funziona quindi chi sono io per dirvi no cambiate strategia voi state guadagnando avete trovato una strategia di trading che vi permette di guadagnare poche volte in totale però quelle poche volte guadagnate di più di quanto perdete fantastico poi ovviamente entra in atto la psicologia perché è normale che una persona che vede 8 volte di seguito il proprio conto diminuire poi magari comincia a rodersi un po' il fegato no? però pensate che bello quelle 2 volte quelle 8 volte in cui perdete 100 euro per ogni per ogni operazione quindi un totale di 800 euro persi però quelle 2 volte in cui guadagnate guadagnate 1000 euro ad operazione avete fatto un profitto di 2000 euro con 2 operazioni e soli 800 euro di perdita con 8 operazioni in totale comunque avete guadagnato 1200 euro il vostro conto è aumentato di 1200 euro quindi bisogna impostare le proprie strategie a seconda della propria propensione al rischio e alla perdita ciò che differenzia un trading profittevole da un gioco è la gestione delle perdite appunto bene noi siamo arrivati alla fine di questo di questa introduzione al mondo del trading online del toll io vi ricordo per chi di voi volesse approfondire la varia la sua formazione di trading di entrare nello specifico in quelle che sono i corsi della nostra academy di trade detector potete visitare il sito trade detector punto academy per quanto riguarda invece incominciare fin da subito a rendervi partecipe del mondo del trading online aprire un conto di trading con l'assistenza dei nostri account manager e seguire i nostri segnali di trading che sono proprio le nostre strategie che utilizziamo noi stessi in trade detector per far trading online potete abbonarvi ai nostri segnali operativi c'è la possibilità anche di attivare un proprio profilo di segnali operativi per tre mesi riceverli gratis direttamente sul vostro telefono scoprite come su trade detector punto com per qualsiasi informazione la nostra assistenza rimane a vostra disposizione io intanto vi ringrazio per l'attenzione spero di vedervi all'interno dell'academy mi raccomando visitate il nostro sito perché avrete la possibilità di vedere quelle che sono i nostri corsi i nostri percorsi di formazione abbiamo corsi sul forex sulle opzioni bidare sulle opzioni americane sulle azioni sullo spread trading sul betting exchange il trading sportivo abbiamo anche un master in analisi tecnica dei mercati finanziari per chi di voi vuole incominciare ad avere una visione completa di quella che è questo strumento fantastico dell'analisi tecnica quindi per ora è tutto io vi ringrazio dell'attenzione vi auguro una buona continuazione un buon trading spero di avervi dato le molle necessarie per farvi raggiungere il successo per qualsiasi informazione Trade Detector rimane a vostra disposizione grazie a tutti e buon trading e buon trading